Due semplici upgrade da poter effettuare al tuo PC. Il primo è espandere la RAM. Tante volte infatti vengono usati solo uno o due slot per lasciare spazio ad un futuro upgrade. Inoltre se avete solo un banco di RAM le prestazioni miglioreranno tantissimo perché potete sfruttare il dual channel. È sempre consigliato utilizzare lo stesso modello identico ma nella maggior parte dei casi non è un grosso problema mischiarle. Semplicemente i banchi più veloci saranno limitati alla velocità massima di quelle più lente. Ricordatevi inoltre di controllare che la velocità massima del RAM sia quella massima supportata dal vostro kit. Il secondo upgrade facile è lo storage di SSD NVMe. La maggior parte delle schede madri di nuova generazione infatti ha più di uno slot per SSD NVMe. Ci basterà quindi inserirli, fissarli con la vite o clip e goderci il nostro spazio aggiuntivo. Se il video ti è piaciuto ricordati di lasciare un like e il follow per non perderti altri consigli e trucchi tech.